Per fare una barca di carta, piega un foglio a metà dall'alto in basso. Poi piegalo di nuovo lateralmente. In modo da formare una piega al centro. Piega l'angolo in alto a destra verso il centro. Gira il foglio e piega l'angolo opposto sull'altro lato verso il basso. Piega ciascuno dei bordi inferiori del foglio verso l'alto e l'esterno per creare la forma di un cappello di carta. In seguito, apri il cappello e stendilo per creare un rombo. Piega il bordo inferiore del rombo verso l'alto. Poi, gira il foglio e ripeti dall'altro lato. Apri la carta e rendila più liscia per creare la forma di una barca. Poi, pipingare il rombo arrived. Pregher la carta e telefono. Chiar sounds che people didn't Whoo! Grazie a tutti.